Giornata di riflessione per i candidati in pectore e soprattutto per i promotori delle coalizioni che si stanno formando per la corsa alle comunali a Pagani. In una città dai tanti problemi si registrano notevoli difficoltà per la composizione delle liste, il disincanto per quanto accaduto nell'ultimo anno sul fronte politico-amministrativo con il ritorno al voto dopo appena un anno e l'ennesima gestione commissariale hanno allontanato tanti benpensanti dall'idea di gestione della cosa pubblica. Restano i soliti appassionati, comandati senza esercito perché la prima vera difficoltà sta nella scelta dei candidati a partire da quelli in corsa per il sindacato per finire ai candidati per un posto in consiglio comunale. I promotori di fantomatiche coalizioni continuano a sbandierare formazioni di liste forti e numerose, tanti blef perché quasi nessuno è riuscito fino ad ora a completarle. Nessuno tralascia il particolare, non di poco conto, che in ogni caso chi vincerà le elezioni andrà a governare un comune in amministrazione controllata per l'aspetto economico che vede la presenza di un commissario ad acta a seguito della dichiarazione di dissesto economico finanziario. Difficoltà numero tre, instaurare un'empatia con l'elettorato cercando di comprendere le ragioni e le istanze dei cittadini stanchi ed arrabbiati con tutto e tutti. In questo clima si muove la macchina elettorale con molti che sono pronti a dimostrare una propria forza elettorale. Scalpita così il gruppo vicino al vice sindaco uscente Anna Rosa Sessa ed Emilio Bonaduce vicino ad Italia Viva e con accanto espressioni delle società partecipate ancora legate alle vecchie nomenclature. Svanito il tentativo di mettere su un laboratorio politico nell'area di centro da proporre all'elettorato paganese facendo leva anche su traversalismi con le elezioni regionali. La proposta sarebbe stata avanzata alla parlamentare di Forza Italia Marzia Ferraioli che sta continuando ad opporsi alla candidatura ormai ufficializzata da Fratelli d'Italia. Liste forte già pronti quindi voti certi e risorse per sostenere la campagna elettorale. Questa è la sintesi del progetto messo sul tavolo ai forzisti ancora alle prese con le diatribe interne. Ma l'onorevole Ferraioli avrebbe nelle ultime ore risposte picche anche per un accordo siglato con la Lega dell'euro parlamentare Lucia Vuolo che avrebbe dato carta bianca al partito di Berlusconi per l'indicazione del candidato sindaco. Una candidatura di qualità di persone per bene da una rosa di nomi di almeno cinque personalità della società civile è chiamata ad una risposta in breve tempo e sulle quali ci sarebbe l'avallo della Lega e dell'Udc. Svanisce così il sogno dell'unità del centro-destra auspicato dalla stessa Lucia Vuolo. La fuga in avanti di Fratelli d'Italia non è stata ancora digerita. Nel centro-sinistra il Partito Democratico tarda ad ufficializzare la presunta convergenza su Aldo Cascone. Evidentemente si sta guardando ancora intorno perché questa ipotesi pare non metta tutti d'accordo. Mentre l'altro laboratorio, quello definito polo civico, messo su dagli ex candidati a sindaco Bottone, De Prisco e Desiderio, sta metabolizzando la rosa di nuomi sul tavolo e che rispondono a quelli dello stesso Santino Desiderio del Movimento 5 Stelle, Lello De Prisco, ma anche quello dell'ex assessore Carmela Pisani e dell'avvocato Rino Carrara e di Pasquale Sorrentino. Tra questi nelle prossime ore dovrebbe essere scelto il nome che meglio rappresenterebbe lo schieramento che rimane coeso.